Non bisogna dimenticare qualcosa che possa esserci, ecco, al nostro Luca consegniamo un, non è stato, vieni mia cara, una piccola tua fan, ecco, consegniamo, si può aprire questo scatto da Patrizia, vi facciamo vedere che ci sta dentro, tanto leggiamo, leggiamo la motivazione, sei grazie a Luca Napolitano perché sappia con la sua musica contribuire a costruire un mondo più grande e centrato sull'amore che ci fa per il cuore, questo è il libro che mi hanno lasciato in principio, e adesso vediamo che cosa c'è qui dentro, c'è una statuina africana, viene dall'Africa, è un gesto di solidarietà, una persona che aiuta, abbraccia e l'aiuta anche a rialzarsi, speriamo che la tua musica serve anche a questo, ho saputo che le tue canzoni sono servite anche a questo, però non mi sbilancia. Sì, in realtà c'è stata la mia prima canzone che è stata Vai, che è quella che mi ha, mi ricordo ancora la frase di Zerbi che disse sarà la prima canzone dell'album che faremo, e da lì poi hanno preso una frase dell'Alice, quindi che ricordo che è l'associazione di donazione di sangue a livello nazionale, mondiale, e quindi da lì hanno estrapolato una frase della canzone, del brano e hanno fatto uno slogan, che è non c'è altra via d'uscita, sai di essere importante, Vai! Quindi a questo sarebbe la mia. Serve solo la musica, in realtà io sono solo uno strumento. Prima cosa è stato detto, non è la poesia che cambia il mondo, ma sono i poeti, quindi sono gli uomini, non è la canzone. Allora, in realtà io sono i poeti, cioè Luca Napoletano. Grazie, grazie a tutti. Bravo! Grazie a tutti. Questi sono i nostri album, le immagini. Portate un carrello per la spesa. E io sul palco poi vorrei chiamare una persona importante, Luca, il suo manager. Francesco, vieni. Dai, Francesco! Questa è una persona che è un fratello, è mio fratello, il mio fratello, è un legato, è un legato, è un legato, è un legato. Chissà che non uscirà anche lui con qualche armi Vittorio sa tutto Ma Sì, perché non so Come faccio a sapermi? Sì E mi documento Mi documento C'è qualcosa dove posso documentarvi Sì, abbiamo il sito nostro Ma poi basta perché ci telefoniamo Ma ogni volta che mi documento non trovo mai nulla Ma tu telefoniamoci E vedrai come ci documentiamo Non ci dimentichiamo Anche Francesco Il ricordo di questa serata Perché loro abitano Lui a Roma, Francesco a Noda A Saviano Dunque Ringraziamo davvero di cuore Luca Per essere stato da noi con la speranza Chi era venuto ancora In altre questioni E poi adesso concludiamo Una coreografia Che ci metterà un po' di brio Però prima di concludere Ma purta d'Agar Per restare una coppa che me la sono dimenticata Perché qui Tenere su Sapeste le gambe come le sento A forma di Come stanno facendo Cagliare Cagliare Dobbiamo trovare su internet Documentarci per le gambe Vedere se ne riusciamo a trovare Per le gambe di Riccardo Sì In questi momenti Ecco io ricorso Scusate Ci sono 3-4 cartelle in realtà Si sono perse No Una cosa bisogna farlo Scusate Perché è così Vi ringrazio a mente Prima della conclusione Innanzitutto a tutti gli amici della conoscenza